I mercati azionari hanno registrato qualche giorno di incremento della volatilità che ha provocato un ritorno negativo sull'azionario, in particolare sui titoli cosiddetti grow, che sono le azioni che hanno maggiori potenzialità di crescita. Su questa volatilità ha influito da un lato un forte rialzo dei tassi di rendimento del titolo di Stato decennale USA, il Treasury, che è passato da 0,9 di inizio anno a 1,6 negli ultimi giorni e soprattutto le aspettative su una ripresa dell'inflazione, che sono le più elevate mai registrate dal 2014. Aspettative di inflazione in crescita motivate anche dall'aumento dei prezzi delle materie prime. La combinazione di questi due eventi si è tradotta in performance negative per i mercati azionari in generale e in particolare per quelli legati alla transizione energetica che avevano corso bene nel 2020. L'inflazione era in forte flessione per il crollo della domanda dovuto ai lockdown che si erano resi necessari per fronteggiare il covid e al brusco calo dei prezzi del petrolio. Già nella seconda metà del 2020 avevamo visto che andava aumentando sia negli Stati Uniti sia in Europa grazie alla ripresa della crescita economica mondiale trascinata dall'area asiatica. Anche la convinzione che le vaccinazioni di massa favoriranno un ritorno più veloce alla normalità in un contesto nel quale ha già ripreso a crescere l'economia ha reso possibile un ulteriore rialzo delle prospettive di inflazione. Ma l'inflazione continuerà ad aumentare ancora? È difficile dirlo. Ma è certo che le banche centrali giocheranno un ruolo chiave su questo tema perché lo strumento classico per raffreddare l'inflazione è l'aumento dei tassi e questa, quella dell'aumento dei tassi, è la prospettiva che preoccupa di più per gli effetti negativi che un eventuale aumento dei tassi potrebbe avere sia sulla ripresa economica sia sul costo del debito pubblico che un po' ovunque sta crescendo per fronteggiare gli effetti negativi del Covid. È comunque ancora difficile prevedere il tasso di inflazione nei prossimi mesi in quanto la pandemia ha modificato molto lo scenario per i paesi sviluppati. È facile immaginare che nel breve periodo l'attuale recupero dei prezzi dell'energia e dell'attività globale dovrebbero sostenere l'inflazione che però certamente crescerà meno nei settori economici che ancora risentono delle restrizioni imposte alla loro attività. Nel lungo periodo certamente l'aumento dei deficit di bilancio e dei rapporti debito-PIL potrebbe anche indebolire le valute alimentando in questo caso un ulteriore rialzo dell'inflazione. Anche la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina potrebbe spingere i prezzi al rialzo e quindi dare altra spinta all'inflazione. Ma pur essendo difficile prevedere quali saranno le dinamiche di crescita dell'inflazione è certo che è un atteggiamento corretto da oggi tenerla in considerazione per valutare gli effetti sui nostri portafogli sia in termini di contenimento di rischi eventuali sia per cogliere eventuali opportunità che un aumento di inflazione potrebbe dare anche in termini di investimento. Mi soffermerei in particolar modo su due degli effetti che sono i più immediati dovuti a un rialzo dell'inflazione, quelli forse più visibili, che sono da un lato la perdita del potere d'acquisto e questo rischio impatta notevolmente sugli oltre 1800 miliardi fermi sui nostri conti correnti. È un enorme salvadanaio maggiore del PIL nazionale e fermo, non utilizzato, quindi non produce nessun tipo di ricchezza, non solo. È calcolato che già oggi agli attuali tassi inflattivi questo grande salvadanaio da 1800 miliardi perde qualcosa come 20-25 miliardi di potere d'acquisto all'anno. E quindi secondo me è un ragionamento per chi ha rilevanti somme ferme sui conti correnti la ripresa di una spirale inflattiva può giustificare il valutare di come diversamente allocare almeno una parte di quel denaro. Il secondo effetto più immediato che potrebbe esserci per un rialzo dell'inflazione è, come dicevamo, un aumento dei tassi di interesse, che potrebbe avere profonde implicazioni sulla componente obbligazionaria in titoli di Stato dei nostri portafogli, perché più un'obbligazione a un titolo di Stato è lontano dalla scadenza, più il suo rischio di duration è elevato e maggiore sarà la perdita di valore sul nominale in caso di aumento dei rendimenti obbligazionari reali. Si ipotizza che ogni punto base di incremento nei tassi di interesse potrebbe ridurre di un punto base il valore capitale di un'obbligazione per ogni anno di duration. Un modo per ridurre questo rischio è limitare l'esposizione ad esempio a una serie di scadenze più brevi, anziché assumere un'esposizione a tutte le scadenze. Alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti!